Alzi le mani, non è cosciente che mi trova lo stesso Mi metti una cosa di quello ignorante in mezzo ai 70, mezzo al domino Si è fatta Claudia Keimer Avete visto il sindaco di Cappadocia? Avete visto il sindaco di Cappadocia? Avete visto il sindaco di Cappadocia? Lorenzo Lorenzina, un nome, un avviso di galanzia Es��pone favourite ma il nostro canale Si è fatta la mia amore Io lo r posso evitare Per il nostro canale Un'abbiamo a chiare altro Un'abbiamo a chiare Un'abbiamo a chiare... Un'abbiamo a chiare... Un'abbiamo a chiare... Un'abbiamo a chiare... Perché venire ad un sottotitolo Siamo cattere le mie aci approche Un'abbiamo a chiare un pollo Grazie a tutti